Fino a qui avete visto questo stupendo filmato che viene proprio dall'organizzazione che difende queste tamerici di Porto San Giorgio. Abbiamo in linea Luca Romanelli che è il pantavoce dell'associazione che sta difendendo queste piante. Allora innanzitutto difendendo da che? Beh diciamo dall'ipotesi di taglio che dalle notizie che abbiamo riguarderebbe già più della metà delle 60 tamerici e di espianto, un espianto che oltre a essere contrario al regolamento comunale del verde di Porto San Giorgio di fatto condurrà alla morte di queste piante perché è un'operazione abbastanza complicata. Si stima che la probabilità di sopravvivenza di quelle che saranno spiantata, si parla di 25 al momento ma non si hanno notizie certe, è meno di un quarto, meno del 25%. Quindi di fatto saranno sterminate. Ecco come mai questa decisione, qual è la logica alla base di questa decisione? Ecco il problema è che non c'è nessuna logica nel senso che il Comune di Porto San Giorgio ha acquisito nel 2021 un finanziamento del PNRR che ha destinato alla riqualificazione del lungomare privilegiando la mobilità dolce e ciclopedonale. In realtà poi l'amministrazione ha congegnato un progetto in cui in un lungomare molto stretto rispetto a quello di altri comuni costieri vengono messe due file di parcheggi oltre una corsia carrabile e una di queste file di parcheggi viene ricavata tagliando queste tamerici che sono lì da oltre 50 anni e sono anche un elemento sia storico che caratteristico del lungomare san giorgese. Poi avete avuto contatti con l'amministrazione su questo argomento? Ecco innanzitutto vorrei precisare che noi siamo un comitato di associazioni tra cui alcune molto prestigiose come Italia Nostra di Fermo, Lega Ambiente, la FIAB e poi ci sono associazioni locali come la società operaia che hanno una tradizione lunghissima e dei comitati di cittadini per la difesa per il verde e uno in particolare che si è battuto a lungo per realizzare la pista ciclabile attualmente esistente sul lungomare di Porto San Giorgio che poi sarà incorporata diciamo nella ciclovia adriatica e noi abbiamo da più di un anno e mezzo prima formulato in vista della redazione del progetto abbiamo formulato dei documenti con dei criteri ovviamente orientati proprio alla presenza del verde e alla mobilità dolce poi abbiamo interloquito con l'amministrazione quindi non è che abbiamo fatto un'azione barricadera siamo andati a parlare con gli amministratori con i tecnici e malgrado abbiamo fatto delle assemblee pubbliche e malgrado tutto ciò ci siamo ritrovati con questo progetto che ha veramente dell'assurdo ed è fortemente contraddittorio proprio con i criteri ispiratori del PNRR bene allora sentiremo anche noi la voce ufficiale rispetto a questo progetto e comunque da parte nostra il massimo appoggio a questa iniziativa la ringrazio grazie alla portavoce del comitato per il lungomare di Porto San Giorgio e allora speriamo di salvare queste tamerici lo speriamo noi moltissimo